A 100 mi piace, proverò a replicare io tutti questi balletti di Fortnite e voglio vedere un po' cosa riuscirà, raga, vi prometto 100 like e ve li farò io in live questi balletti, mamma mia Raga, quest'oggi andremo a fare una cosa veramente divertentissima, infatti andremo a reagire a quelli che saranno alcuni balli di Fortnite fatti nella vita reale Infatti ragazzi, tutti noi sappiamo che oltre alle skin su Fortnite amiamo veramente tantissimo quelle che sono le emoti, insomma, i balletti E quindi adesso andremo a vedere un po' cosa succederà se insomma i balletti di Fortnite vengono replicati nella vita reale Quindi mi raccomando, raga, guardate assolutamente il video fino alla fine perché è divertentissimo Ed ovviamente se non siete iscritti al canale io vi ricordo di iscrivervi immediatamente e di attivare la campanellina delle notifiche per rompervi nessun mio prossimo contenuto Ed ovviamente codice creatore all'interno del negozio oggetti di Fortnite, Joe Trattino X97 perché siamo quasi a 350 supportatori Mi raccomando, inseritelo subito perché è importantissimo Detto questo, io vi lascio al video, andiamo immediatamente a reagire a questi balletti, buona visione E allora ragazzoni, siamo qua col primo balletto, dovrebbe essere il boogie down Ma guardate un po', ragazzi, tutti qua, così, sti nostri, insomma, questo non è che mi faccia pensare che sia troppo da discoteca questo signore però E questo è il ballo hype, oh, guardate un po', raga, molto, devo dire, dubstep, molto energico Ah sì, veramente molto, molto energico, oh, guardate un po', complimenti a quel signore perché devo dire che se la cavavo veramente bene, insomma Paragonato alla skin, devo dire che cantavo pure a tempo, quindi mi ha sorpreso E molto due, vediamo un po', eccola qua, ma guarda, ma io mi chiedo, raga, oh no, questa è quella dello skin indimenticabile Ci ha accompagnato veramente per tutta la storia di Fortnite, guardate E, insomma, non è che sia molto sincronizzata, molto identica, insomma, però dai, è il suo perché Ecco, ILM, che tu, ma cos'è, part tu, raga Uh, attenzione, lo riconoscete un po', questo personaggino qua E vediamo un po', l'approssimiamo, dico, Ride the Pony Ma raga, non sempre come quella della canzone Hop and Gangnam Style, là, come si chiama Infatti è quella, raga, guardate un po', hanno preso spunto Penso che, insomma, Fortnite abbia preso spunto perché la canzone è uscita prima Però è proprio quella, guardate un po', quella del cantante Psyo, come si chiama lui Veramente bellissimo, raga Vediamo un po' un altro balletto, attenzione Questo qua, raga, è breakdance a livelli seri, veramente, attenzione E questo balletto, quello dovrebbe essere di Fortnite, che attualmente non ricordo bene Uh, guardate un po', raga, ma questo qua non ha ossa, non ha spina dorsale, veramente È senza spina dorsale Guardate un po' la movenza e il movement, lo chiameremo noi pro player di Fortnite Cioè, guardate un po' il loro movement The warm emote Ah, ok, the warm si chiama Guardate un po', ecco, con la breakdance Insomma, a 100 mi piace, proverò a replicare io tutti questi balletti di Fortnite E voglio vedere un po' cosa riuscirà, raga, vi prometto 100 like E ve li farò io in live, questi balletti, mamma mia Best mates, vediamo un po' il nostro migliore amico Insomma, possiamo dire Uh E insomma Eh, simile Possiamo dire che sia simile Ma cos'è, guardate là, vabbè, una cosa veramente comica Guardate un po', questi signori così che si riuniscono Oh, attenzione, qua ancora le cose si fanno serie Perché qua il movement c'è Vediamo un po', bed and bougie shuffle shapes Ecco, raga, la shuffle veramente Uno dei balletti più belli di Fortnite Guardate un po', è infatti Eccolo qua, la shuffle Guardate un po' che balletto Electro shuffle Che tra l'altro io no E vabbè, pazienza Uh, adesso qua Here comes the money Vediamo un po' quale sarà quest'altro balletto Io vi dico la verità Non lo so proprio, eh Ah, eccolo qua Uguale, raga Messe confronto sono praticamente identici La sincro è perfetta Eppure, insomma Le movenze sono quelle Vediamo subito l'altro balletto Attenzione, vediamo un po' se ci sono Cosa c'entra quello del sale? Salt by Cosa c'entra ragazzi? Tanto per capire Ok, sta tagliando la carne di Tomoc Dovrebbe essere Ma, eh Cosa c'entra con Fortnite? Eh, va bene a lui Complimenti Diciamo che nel caso in cui dovessimo fare un barbecue tra noi iscritti Insomma, chiameremo lui Però non capisco Eccolo qua Subito un altro balletto Vediamo un po' Ah, ecco qua Il balletto questo che fa lo skin Questo me lo ricordo Infatti, il balletto fresh Vediamo chi lo replicherà Secondo me Eh Ma questo è il principe di Belair No, raga Vi immaginate L'ho preso veramente sputto da questa scena Io veramente me ne vado Guardate un po' Ecco questo balletto Replicato, insomma In un film In una serie tv Pazzesco Veramente, veramente spettacolare Raga E vediamo un po' Il secondo Qual è Uh, attenzione Abbiamo quattro bei signori Protagonisti di qualcosa Eccolo qua Vabbè Questo è un classico, raga Questo è un classico Ecco qua Tutti quelli contenti che esultano E infatti, infatti È veramente simile Veramente simile Ragazzoni Questi erano i balletti Veramente fantastici Io vi ricordo Codice creatore Nel negozio oggetti Gio-X97 E mi raccomando A 100 mi piace Prova a replicarli io Quindi insomma È tutto nelle vostre mani Condividete il video a chiunque Ciao a tutti i nostriทi cer Drive E mi raccomando ban Anche E mi raccomando I spiritual